Sbaglia anche lui, Jordan Parks, mercatore in maglia numero 2, dall'altra parte, arriva! Sia sulla pressione a tutto campo, da parte di Trento spinge Freeman, va fino in fondo, appoggia in sottomano, taglia in due la difesa di Trento ed è 8 a 2. Ci sono 4 secondi adesso, vediamo se va Moraschini a tirare, lo fa da 3 punti, Moraschini da 3 punti per il 20 a 14. Nella pitturato si ferma sul gomito, difende ancora forte, Trento Parks deve forzare, probabilmente lo fa da lontanissimo! In campo dagli spogliatoi, Parks prova ad andare uno contro uno, va fino in fondo, si ferma, scarica fuori per Freeman, che risponde con la bomba da 3, che ridà nuovamente la parità. Il lob alto subito a cercare Mattia Udom, rimandato in campo al posto di Hopkins, ripeto, gravato di 4 falli, Udom sbaglia il passaggio, Moraschini va ad affondare! Coordinazione delle gambe, a salire in sospensione per il più 3 nuovamente di Trento. Atkins gioca con 4 falli sulle spalle, ve lo ricordo, poi Brooks, fa tutto molto bene!